BOOM! Il 1-12! Partito! 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 Gosens dentro da Gomez che va al Gosens a guardare in mezzo all'area di rigore, arriva De Rhone! Ancora per il Papu, contro Cipsa, lo punta, la lascia lì a Froiler, zona tiro, al limite c'è De Rhone, calcio forte ma alto. Sposta, Alma sul destro, però non può tirare fuori il tappo, buona idea! De Rhone! Sportiello! De Rhone! De Rhone! Soprano due avversari poi, Sapato la prende, legazione di Salamon! Si prepara un cross De Rhone, la tocca invece all'indietro, ancora De Rhone, infoga il pallone a Temuri, il cross per Zapata, Olsen, Zapata di tacco! Fuori gioco! in verticale per Passari, c'è la respinta della difesa, arriva De Rhone da fuori! Il tiro però centrale, bloccato! De Rhone! Rete! Rete! 1-0 Atalanta! Ottimo il rigore di De Rhone! che si con la spalla, palla per De Rhone, che la colpisce, Donnarumma! Faccio d'angolo che arriva adesso, Donnarumma completamente a vuoto, Zapata, poi tocca Castiglieco, confusione pazzesca, Zapata ancora, Murato, poi De Rhone, salva Rodriguez! boato di San Siro come se fosse gol, perché Rodriguez ha evitato il 2-2 sul destro di De Rhone! De Frelle, va a duello con Mancini, De Frelle, è tutto solo, sfida, la difesa dell'Atalanta, adesso si allarga il francese, vada Ramirez, Ramirez, Ramirez contro De Rhone! Freuler, Ilicic, chiama il lancio dello Svizzero, che esegue puntalmente, viene vicino a Kebarro, ha messo giù il pallone, Josip Ilicic, arrivate Burma, è un po' in ritardo, Ilicic cerca di andare in mezzo con il destro, non trova una strada, rimorchio De Rhone! Porta avanti l'Atalanta, al venticinquesimo minuto, il rimorchio, da dietro, da parte di De Rhone, sblocca l'Atalanta! Poi però De Rhone ci metta del suo, perché va a calciare benissimo, tiene bassa questo pallone! Alle spalle del Sekossets, ingresso in aria, poco dietro per De Rhone, ancora 7, la tiene giù! Buona lettura di De Rhone, in anticipo, centralmente Ilicic, carica a sinistro, Ilicic, la botta centrale, poi l'autoretti, i tritti, facciano il lucarello, qui tutto parte dall'intuizione di De Rhone, Ilicic, carica dentro la parata di Ilicic, protegge due avversari, poi scarica De Rhone, palla morbida, contrasto, Duman Zapata! Dello staff medico, De Rhone sembra aver preso una brutta porta, forse una torsione del ginocchio destro, si è visto bene. Ancora del sud, che dira, a larga verso Maturi, pallone intercettato da De Rhone, in posizione di tiro, la conclusione... Si, De Rhone è rientrato da un infortunio, proprio oggi nel prepartita, ha detto che la squadra ci crede, che cerca la vittoria si sia. Invece l'ha fatto Vitor Rube, qui l'ha rispinta con i pugni di La Fon, la conclusione per tanto di De Rhone, che rivolta in vantaggio l'Atalanta, con un tiro spettacolare, che finisce sotto l'incrocio dei pali, non può intervenire La Fon, Atalanta 3, Fiorentino 2, ha segnato De Rhone, che poi va a prendersi il meritatissimo abbraccio, della banchina nera azzurra, anche c'è Gomez, però è De Rhone che anticipa le operazioni, servito Adevur, il cross nel cuore dell'area di rigore, prova ad allontanare di Nilsson Ferrarrandez, ancora De Rhone, questa volta il pallone viene intercettato, e termina un calcio d'angolo, va Gomez, fa la tese in mezzo, allontana Cesar, De Rhone, destro, alto però, sopra la traversa. Che ha iniziato la gara, mettendo in clamorosa difficoltà l'avversario, ancora Ilicic, che puoi mettere il doppio passo, col destro, rete, rete, ancora Ilicic, 2 a 0, Atalanta strepitosa. Dall'Olanda arrivano anche De Rhone, e Attebur, in tre, sono costati meno di 6 milioni di euro. Poi, chiaro che Geron poi è andato per tanti soldi al Midras, ma è stato preso con una cifra importante, ma la prima volta arrivò per un milione e mezzo. Eccolo Geron, Zapata, andato dentro Gomez, che adesso farà in frigiolo Geron. Bella vettura per Gossens, posizione di cross, la mette in mezzo Gossens, palla sul secondo palo, arriva Geron nel tiro, respitto da Attebur, poi Mancini, palla ancora in aria, Attebur spalla alla porta, Geron, è un tiro al bersaglio, arriva Skorup, si è attaccato da Ilicic, attenzione che la porta è buona, Geron potrebbe calciare, Geron, di pochissimo fuori, sarebbe stato un gol straordinario. Accompagnato dal tuo grido, questa palla esce secondo me di pochissimo. Skorup pensa che Ilicic a un certo punto si fermi, invece assolutamente no, guardatela da dietro, bello il replay, esce di un metro. Allora esce addirittura Mancini Pasamoah, che imbuca un grande pallone per Perisic, può andare al cross, troppo facile per Geron. Gomez, De Ron, ha spazio per provare il destro, De Ron, la parata è poi inzappata, che non arriva nella età fine, forse leggermente toccato, quel tanto che basta. Lo scatto di Milic, gran controllo, arriva Mertens al sostegno, ancora, si accende al zona tiro, murato al momento della conclusione, da un giocatore della Palata che si è immolato, ma si è anche fatto male. Genere di rigore, il senso di lui, Ilicic, Ilicic, o spina, non è finita il tiro, al volo, da parte di De Ron, la palla è fuoco fuori. Duman Zapata, a centro aria c'è Pasareggi, Zapata sceglie, De Ron, al volo De Ron, ancora Musso, altro grande intervento, a negare il vantaggio all'Atalanta. De Ron, finisce a terra, scivolando De Paul, De Ron al cross, palla intercettata da Zegelar, rimessa sul lato, De Ron non si accontenta del corner, rigioca dentro, subito la palla, e il corner alla fine la porta a casa, si gira piccoli, coinvolge De Ron, palla di ritorno, molto interessante, Papus Obez, Striegelarsen, fa De Ron, trasformare alla perfezione il rigore, che porta l'Atalanta in vantaggio, e in questo momento la porta al quarto posto solitario, in classifica, 1 a 0. Il giocamento di Radovanovic, adesso non dico che è un uomo sull'inizio, eccolo Barro, controlla il palo di Zucanovic, Barro, Radu para, e la barra si infila dentro, gioca così, il suo primo pallone, Musso Barro, 1 a 0, eccola la scintilla. Parte Gomez, il pallone tagliato, il colpo di testa di Cinsidi, poi l'agropazia, il palo, la peta, ancora l'Atalanta, pericolosamente in avanti, la posa di Masselle, Deron, il salvataggio providenziale, colpo di testa, pallone sul fondo, occasioni colossali per l'Atalanta, per l'arco di pochi secondi con i tentativi di Deron, di Cinsidi, il palo... Ecco qui quello che è successo, la battuta, finisce a terra, Deron, si rialza Deron, contro Magnanelli, anche lui era curioso, manata di Deron, ma nulla di troppo serio, poi... Aspettate, chi è stato espulso? Berardi? Dovrebbe essere Berardi, mi dico... questo è l'attorto di Berardi, sulla testa poi era furioso Berardi! Il 2-12! Marti! Marti?! Periers! 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 Quersp esté sonata in mezzo? Conversate con i tentazioni fra Atalanta